Un saluto particolare a un mio amico che purtroppo non c'è più, che gli è successo una cosa sabato scorso e volevo dedicare tutto questo concerto che sto facendo a lui perché non ho avuto tempo di fare un concerto con lui. Un saluto particolare a tutti i miei amici e ho avuto tempo di fare un concerto con lui. Un saluto particolare a tutti i miei amici e ho avuto tempo di fare un concerto con lui. Un saluto particolare a tutti i miei amici e ho avuto tempo di fare un concerto con lui. Un saluto particolare a tutti i miei amici. Grazie a tutti.